Signore e signori, facciamo ascoltare un altro sonato che si chiama Amici miei. E' un grande uomo, Frommidori. Ci troviamo, dato il gusto di gloria, l'esposizione della fisarmonica. Il ministro Iaoni, questo grande fisarmonicista, è un grande professore. Il ministro Iaoni, questo grande fisarmonica, è un grande professore. Il ministro Iaoni, questo grande fisarmonica, è un grande professore. Il ministro Iaoni, questo grande fisarmonica, è un grande professore. Il ministro Iaoni, questo grande fisarmonica, è un grande professore. Il ministro Iaoni, questo grande fisarmonica, è un grande professore. Il ministro Iaoni, questo grande fisarmonica, è un grande professore. Il ministro Iaoni, questo grande fisarmonica, è un grande professore. Il ministro Iaoni, questo grande fisarmonica, è un grande professore. Grazie a tutti.